Stasera Aldo racconta, racconta dieci minuti uscito di casa, sono qui, piazza Anita Garibaldi. Oh, cosa vedo? E già qua c'è il deposito della Croce Verde di Baggio. Cosa vedo, cosa vedo? Ma mi pongo una domanda. Ma quella vecchietta che hanno portato giù da quel paese di sei abitanti, dove non c'era la strada, in Barrella, a un paese di Codera, mi rendo conto. Ma qui almeno sono tranquillo, sotto casa mia ho la Croce Verde di Baggio, ma rendersi conto di quelli che abitano Monteviasco, in provincia di Varese, che non funziona la funivia, come possono essere portati in ospedale giù in Barrella per 340 gradini, mi chiedo, e così via, un susseguirsi di paesi, di nomi, di centri abitativi. Io sono abbastanza sicuro, sono qua vicino a una Croce Verde di Baggio ad aspettare chi che cosa, la sera ore 9 vado a casa, odio la tv e lo ripeto ancora, troppe notizie. Uno si ascolta la tv prima di dormire, praticamente si è un po' sensibile ad ascoltare le notizie, non dorme, ma io vivo, vivo in questa Milano, zona Baggio, municipio 7, per ora mi trovo bene, poi quando avrò agio di cambiare, di andare nel weekend in un piccolo borgo, ci vado più volentieri, però come seconda casa, quando potrò? Aldo. Grazie. Grazie.